Il progettale non poteva riscuotere, una riconfrenza, c'è lui un messaggio, un nuovo animale, per questo ha trovato sì, cioè lui ha detto a te chi è il killer, e tu lo vedi solo a raccontare una bella storiella, per andare a incassare il ballocco, ma tu, tu vuole lì, tu ci sai, tutta la riconfrenza. Beh, non è molto importante, ma hai ragione, il diagazzini fa. Ti ricordo, non capisco perché hai insistito tanto a venire su con me proprio oggi, gli incidenti sono molto perdenti questo, il tuo lavoro è pericoloso, soprattutto quando c'è vento forte. Cosa vuoi dare? Un giorno di sotto, amico mio!